Ciao a tutte le persone che staranno guardando questo video. Voglio partire con una dichiarazione di intenti. Non mi sono seduta qui oggi per arrabbiarmi o far arrabbiare o attaccare, nonostante ci sia anche tanta rabbia in me per questa vicenda. Il mio obiettivo è quello di comprendere e farmi comprendere. Sebbene so che questo video verrà visto da un sacco di donne, i miei interlocutori sono dichiaratamente gli uomini, nello specifico gli uomini eterosessuali e cisgender. Se ti stai chiedendo che cacchio è un uomo cisgender, probabilmente sei tu. Cioè una persona con dei genitali maschili che è stata dichiarata uomo alla nascita e che si sente uomo. E parlo non dall'alto delle mie competenze, ma perché ci ho messo io una vita a capire alcune cose. E ho fatto e faccio milioni di errori. E se quel poco che ho imparato può servire a qualcuno, intanto che continuo a imparare tutto quello che non so, cioè praticamente tutto, provo a condividere il poco che mi pare di aver capito. Come forse avrai intuito dal titolo, e sì sono ufficialmente passata alla seconda persona singolare, perché vorrei poter parlare singolarmente a ogni uomo, oggi vorrei provare a fare un po' di chiarezza sull'obiezione non tutti gli uomini, che viene fatta ogni volta che si discute di un problema di genere. E la primissima cosa che voglio dire è che è vero, è verissimo, non tutti gli uomini. Per le donne che mi stanno guardando, soprattutto per le mie colleghe femministe, vorrei citare Aldo Baglio, quando dice sembra che mi sto incartando ma adesso ne esco, perché lo so che sentire questa cosa fa arrabbiare, lo so io, lo sapete voi, sappiamo pure perché e comprendo perfettamente quella rabbia, perché è la stessa mia. Però fidatevi che adesso ne esco. Stavo dicendo, è vero, non tutti gli uomini, non tutti gli uomini stuprano, non tutti gli uomini uccidono le proprie compagne, e non tutti gli uomini mandano nelle loro chat con gli amici i video e le foto delle loro ex. Tutto estremamente vero. Ma infatti, se ci fai caso, è estremamente improbabile sentire delle frasi tipo tutti gli uomini sono degli stupratori o tutti gli uomini uccidono le proprie compagne. Se qualcuno dicesse una cosa del genere, qualsiasi persona con un po' di senno direbbe beh, no. Quello che viene detto di solito è che gli uomini hanno un problema con la violenza, con il possesso, con le molestie. Tutti gli uomini? No. Però questo è un problema maschile e a dirlo è la statistica. Poi ci sta che sia un problema maschile, ma non tuo nello specifico. Le due cose coesistono. La domanda è, quando diciamo che le statistiche sono terrificanti e che ci sono troppi uomini che agiscono in un certo modo, in che modo dire eh, ma non tutti, aiuta a gestire il problema? Questo è il primo punto del mio discorso e vorrei che fosse molto chiaro. Nessuno dice tutti gli uomini. Quando si dice che il genere maschile ha un problema con lo stupro, non si sta dicendo che quindi tutti gli uomini stuprano. Sono due cose diverse. Dopodiché, sommare i casi e metterli assieme serve per portare alla luce dei problemi, non per parlare dei singoli. E se alla luce deve starci il problema, significa che non puoi starci tu con la tua esperienza personale. Ti faccio un esempio su di me, perché a parte il fatto che sono donna, per il resto sono proprio il ritratto del privilegio, ok? Sono bianca, sono eterosessuale, sono cisgender, sono abile, sono della classe media, eccetera. Quando sentivo dire che i bianchi sono razzisti, io non me la prendevo perché sapevo che, sì certo, il razzismo è anzi tutto un problema dei bianchi, perché siamo noi a portarlo avanti di solito. Però io, nello specifico, non sono razzista, quindi lo so che questa frase non sta parlando di me. Come dire? Ho la coscienza a posto, non mi si infiamma nessuna coda di paglia. Certo, il razzismo riguarda i bianchi perché sono anzitutto i bianchi che la devono smettere di insultare i neri solo per il loro colore di pelle. Detto ciò, io non lo faccio. E non sento il bisogno di dire, ehi, ma non tutti i bianchi, perché lo so. Il fatto che sia un problema dei bianchi non significa che tutti i bianchi siano razzisti. E ora la parentesi che prima ho fatto per le donne, adesso devo farla, per tutte le persone che fanno parte di una minoranza etnica e che in questo momento staranno pensando, eh, amica, tu lo sai che non funziona così per niente, vero? La mia risposta è, sì, ma ci arrivo un passo alla volta. Fidatevi. Quindi, primo step, dire che una categoria ha dei difetti non significa dire che tutti i membri di quella categoria hanno quei difetti. Secondo step, se io faccio parte di quella categoria ma non ho quel difetto, ci sta. Tanto non si sta parlando di me nello specifico. E non è utile che stia io sotto i riflettori e arriva a dire che, oh, però io no, eh, cioè, si è messo agli atti, io no. E adesso veniamo al terzo e giuro, ultimo step. E già se mi hai seguito fino a qui, grazie. Resto sempre su di me perché è più semplice e questa ti avviso, l'ho capita dopo tanti anni di confronto con le persone nere che hanno avuto la pazienza di spiegarmi certe cose anziché mandarmi a quel paese e tanti libri letti. Non è vero che io non sono razzista. E questo è proprio difficile da digerire. Mamma mia, com'è difficile da digerire. Non è vero che io non sono razzista perché in una società dove il razzismo è sistemico, cioè è ovunque si manifesta in mille modi, se io in quella società ci vivo, lo assorbo. Certo, non ho mai urlato per strada o insulto a una persona solo per il suo colore di pelle, non ho mai detto cose tipo tornate nel tuo paese, ma il razzismo non si esaurisce qui. Il razzismo è non avere neanche un amico nero, è partecipare a un evento dove sono invitata solo persone bianche e non rendersene neanche conto. è chiamare una persona nera per farla parlare solo di razzismo come se lei non fosse nient'altro che il colore della sua pelle. E ascoltare un insulto razzista è da persona bianca non dire niente. Io non faccio o dico nulla che sia intenzionalmente razzista, ma questo non vuol dire che io non faccia o non dica cose razziste. Magari, semplicemente, non me ne rendo conto. E non me ne rendo conto perché sono bianca e mi hanno insegnato che la normalità sono io. E quindi non mi viene neanche da chiedermi se il mio modo di fare magari stia creando dei danni ad altri, anche se non lo sto facendo apposta. Quindi sì, non tutti i bianchi dicono e fanno cose razziste con l'intento di essere razzisti e per fortuna, ma la questione del razzismo riguarda tutte le persone bianche. tutti i bianchi, nessuno escluso. Ora, prendi questo mio discorso e prova a girarlo su di te. In questo caso, parlando di sessismo, ma non è assolutamente detto che tu puoi, non possa fare tu anche il discorso sul razzismo, soprattutto se sei bianco. Capisci perché dire non tutti gli uomini alla fine della fiera non è soltanto inutile ma è anche controproducente perché in questo modo ti stai perdendo un pezzo. Perché la questione delle molestie, degli stupri e dei femminicidi riguarda tutti gli uomini. Tutti quanti, nessuno escluso. Perché è vero che sicuramente tu non hai mai fatto male a nessuna donna. Ma quante volte ti sarà capitato di sentire un tuo amico fare una battutaccia su una ragazza e stare zitto? O magari riderne. Ridere di una battuta è come stuprare, certo che no. Ma è una cosa che assieme a tante altre alimenta una società sessista dove alla fine accadono cose peggiori perché il terreno è fertile. Maestra Torino è la prima ricerca su Pornhub in queste ore. Tutti gli uomini che stanno cercando maestra Torino su Pornhub hanno mandato video e foto delle loro ex in una chat del calcetto? Ovviamente no. Ma credi che fare quella ricerca non contribuisca a minimizzare tutta la questione? E se tanti uomini stanno cercando quel video è perché ancora non hanno chiaro che quella è una violenza. Che stanno guardando una donna che non ha dato il consenso a farsi guardare in quel modo. E se fino adesso hai riso alle battutacce o ne hai fatte a tua volta o hai cercato quel video o sei in una di quelle chat dove si scambiano cose del genere anche se magari tu non hai mai commentato niente significa quindi che sei una merda umana? No. Sei un uomo e in questa società che è sessista è tristemente normale che un uomo faccia certe cose. Ma questo non ti toglie la responsabilità di quello che fai e di quello che non fai dei tuoi silenzi del tuo non dire ragazzi state esagerando e così via. Dico che riguarda tutti gli uomini perché ogni uomo può fare qualcosa dal momento in cui diventa consapevole di questi meccanismi. Perché sai cosa succede se queste cose le dico io? E le dico da qualche anno quindi ho un po' di esperienza. Succede che mi arrivano minacce di stupro e di morte. Da parte di uomini che probabilmente nella vita vera non hanno mai stuprato e ammazzato nessuna ma quindi è sufficiente non molestare non stuprare non ammazzare è il minimo richiesto. C'è bisogno di alzare la barra c'è bisogno di fare molto di più. E siccome quando lo faccio io quando lo facciamo noi donne in generale la shitstorm è dietro l'angolo c'è una sola alternativa ed è che lo faccia tu. Non dico che tu ora debba aprire un profilo Instagram e diventare un attivista ma il tuo amico che fa la battuta sessista è molto più portato ad ascoltare te se gli dici oh però adesso piantala che non me parti da lui parti da te tu dici e fai cose sessiste esattamente come io dico e faccio cose razziste la so non ci piace però è così anche se non vorremmo anche se siamo convinti di non farlo. questo ci rende essere immondi no ci rende persone però con delle responsabilità che possono accogliere i propri errori sapendo che non siamo solo quelli e non ci definiscono totalmente e ci rende persone che possono chiedersi come fare per fare meglio quindi in sostanza sì tutti gli uomini ma non per come lo hai inteso forse all'inizio non tutti gli uomini stuprano ma tutti gli uomini hanno la responsabilità di educarsi e capire quanto sessismo abbiano assorbito e come questo si manifesti non è una guerra non è uomini versus donne quelle cose lasciamole ai teatrini della tv qua proviamo a fare qualcosa di più utile per favore proviamo a farlo insieme grazie per avermi ascoltata